Minchia ma se la stanno inculando questa qua c'è 10 cazzi addosso Ciao a tutti bimbi belli bentornati sul mio canale Altra missione di GTA 4 Siamo ancora con il nostro amichissimo Gerald McCreary Dopo Hiltaker Oggi tocca a Ransom La scorsa missione appunto abbiamo rubato una macchinina rosa Abbiamo portato a giro la figlia di Ancelotti Che ha provato anche a farci sbandare Alla fine è stata rapita Oggi andremo avanti con Gerald che si trova al fresco Perché è imprigionato E quindi bisogna attivare le missioni andandolo a trovare Tutto questo però richiede un piccolo sforzo da parte vostra Che è quello di lasciare un like al video e iscrivervi al canale Che è veramente una cagata ragazzi Poi dopo ci pensiamo noi a passare al gioco Dai ragazzi Eccoci qui bimbi belli E adesso dovrebbe richiamarci il nostro amico Gerald E quindi Dormiremo Simuleremo almeno Una dozzina di ore Eccoci ci siamo Due simulazioni E ci siamo Allora Che cazzo c'è da fare qua Riscatto Ok Sarà ransom Ecco questo magari potevi anche evitartelo Grazie Aspetta 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 C'è da entrare qua dentro ma ci sono le scale Quindi niente Minchia quant'è alta sta radio Passo prima io Ho la destra libera Ops L'ammazzato no Gli ho so rotto 24 costole Ok Saliamo nel rifugio C'è qualcosa qua dentro Perché vai così a scatti brutta merdaccia umana Minchia ma se la stanno inculando questa qua Cioè Dieci cazzi addosso Minchia ma il sesso Ma neanche il sesso anale fa questi versi qui Ta strunza Tra l'altro potevo entrare da qua Ok c'è Finita così Ok Ok beh E quindi adesso dovrò aspettare altro tempo Un'altra chiamata Ancora Jerry Oppachi Infanto boh Ma me ne vado a dormire Che devo fare Cioè boh Alderni Rifugetto Let's do it Thank you very much Tangensch E SRI Beep 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 Ma me ne vado a dormire